Quindi siamo anche un po' stanchi di continuare a ripetere le stesse cose senza che nulla accada, senza che ci sia una reale presa di coscienza della emergenza ambientale che sta coprendo tutti i settori del funzionamento della vita su questo pianeta. Dobbiamo fare delle scelte in parte tecnologiche e in parte però anche filosofiche. Tecnologiche perché certo i pannelli solari sono tecnologia come sostituzione dell'energia fossile ma la scelta di fare le vacanze invece che le Maldive in un agriturismo in Langa è una scelta filosofica. Grazie a tutti per la resistenza e l'energia.